Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di Antena 2. Finalmente una perturbazione di origine atlantica proprio in queste ore ha raggiunto il territorio italiano settentrionale portando le prime precipitazioni anche su Alpi e Prealpi centrali e orobiche. Ecco questa perturbazione insisterà nelle prossime ore perché si formerà una circolazione depressionaria con minimo fra l'Alta Sardegna e il Golfo Ligure e arriveranno nuvole e piogge proprio nella prossima notte con occasionali temporali anche sul nostro territorio e piogge talora battenti fino all'inizio di domenica dove poi avremo una graduale attenuazione dei fenomeni a partire dai settori più occidentali. Ma se passiamo alla grafica successiva vedremo come la settimana prossima saranno due figure a contrapporsi. La prima un anticiclone che si posizionerà fra le isole britanniche e la Francia e una bassa pressione che lentamente si sposterà verso le nostre regioni centro-meridionale dell'Italia ma sarà in grado ancora di far affluire dell'aria abbastanza fresca e instabile nei primi giorni della settimana determinando proprio un contrasto fra aria più umida proveniente da sud ovest e aria più fresca proveniente da est con addensamenti più consistenti fra lunedì e martedì che potranno arrecare ancora qualche isolato piovasco sul nostro territorio montuoso o robico. Ma andiamo con ordine, vediamo l'evoluzione del tempo per la giornata di domani domenica che vede un inizio di giornata ancora con il maltempo. Soprattutto nelle prime ore appunto di domenica al mattino avremo ancora piogge talora battenti specie sui settori più orientali del nostro territorio quindi intendo dire la zona della Val Camonica e la Val di Scalve dove qui appunto le piogge saranno ancora consistenti mentre sui settori più occidentali del nostro territorio gradualmente avremo un'attenuazione dei fenomeni con isolati piovaschi qua e là ma anche intervallati da pause asciutte. Nel pomeriggio sarà l'istabilità a caratterizzare il tempo sul nostro territorio quindi avremo qualche fugace schiarita ma rapidamente anche annuvolamenti che potranno arrecare ancora soprattutto sui terreni territori più montuosi del nostro territorio piovaschi isolati e ho indicato uno zero termico intorno ai 1800 metri di altitudine a indicare aria fredda in arrivo sul nostro territorio e spruzzate di neve in occasione di questi rovesci che si attesteranno intorno a una quota di 1800-2000 metri di altitudine. Evoluzione del tempo per la settimana. Vediamo la giornata di lunedì, giornata festiva del 25 aprile che sarà caratterizzata al mattino da annuvolamenti a tratti irregolari con una tendenza nel pomeriggio a qualche locale piovasco sebbene circoscritto ai nostri terreni più settentrionali, ho indicato qualche piovasco più probabile in serata, nel complesso sarà una giornata in compagnia delle nuvole ma almeno nella prima parte le precipitazioni non dovrebbero avvenire sul nostro territorio, zero termico intorno ai 2100 metri di altitudine, temperature a clusone comprese fra i 4 gradi di minima e i 15 gradi di massima quindi una giornata abbastanza fresca per il periodo. Martedì ho indicato una notevole instabilità atmosferica con piovaschi più probabili sempre al pomeriggio temperature in graduale ripresa, vedete 8 gradi di minima e 18 gradi di massima e uno zero termico intorno ai 2100 metri di altitudine quell'anticiclone, quell'alta pressione che vedevamo sulle isole britannico nella grafica passata tenderà via via a spostarsi sui nostri territori fra mercoledì e giovedì portando un deciso miglioramento del tempo specie fra mercoledì e giovedì con poche nuvole soprattutto appunto nella giornata di mercoledì e temperature un po' fresche al primo mattino comprese fra i 5 gradi di minima e i 16 gradi di massima giovedì giornata fra nubi e schiarite ma con assenza di precipitazione, attenzione perché fra venerdì e sabato prossimo ho indicato un graduale peggioramento del tempo, potremmo essere raggiunti da un'altra perturbazione sempre di origine nord europea che potrebbe attraversare i nostri territori e per il mete è tutto, vi aspetto sempre qui sabato prossimo su Antenna 2